Benvenuti in questo nuovo Friday's Vlog su cosa non mangiare prima di una gara. Siamo in viaggio verso Prali, abbiamo fatto un pit stop per festeggiare la fine degli esami di terza media, big event. Come sono andati Riccardo, raccontaci. Ho fatto una run clean, sono uscito bello pulito. Pesso siamo andati bene. Un viaggio verso Prali dove faremo la seconda tappa della Coppa Italia. Non ci sarà il nostro amico Pippo, ma direi che avete fatto il pieno nell'ultimo Friday's Vlog. Quindi adesso mangiamo e poi ci rimettiamo in viaggio perché abbiamo 5 comode ore di macchina. Dove Riccardo dopo questo pasto probabilmente si addormenterà. Raga, questo è Pippo, l'ultima special guest del Friday's Vlog, visto che non viene a Prali perché è una brutta persona. No, perché è troppo forte, lui gira solo l'entera. Adesso che gira troppo grosso ha deciso di andare a fare solo la European Cup, come potete vedere. È già. Bene. Mangiato, ben mangiato. Si riparte. Let's go. Non dormi ancora? Sono le 23.25, siamo super carichi. Io non riesco a addormentarli. Quel mezzo litro di Coca-Cola al Mac non ha aiutato. Niente, c'è un incidente, quindi arriveremo ancora più tardi. Domani super carichi. Ci è stato riferito che forse domenica non si farà la gara, quindi ottimo. Domani saremo belli svegli, belli pronti, belli carichi. Buongiorno. Ciao. Dopo un arrivo comodo a mezzanotte e mezza. Siamo pronti per questa giornata di prove più qualifica. Stiamo andando al paddock e ci vediamo lì. al nostro grandissimo gazebo. Riccardo, esprai il tuo numero. 400 e? 2. Comunque l'1 non te lo darà mai. Non so perché. Chi è l'1? No, 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 penso che. No, perché è più alto il Federico, anche del numero. Oh. Non so come chi l'ha dati fuori. Comunque quello è quello della maglia. Buongiorno. Pronti per la prima randi giornata. Non hai mai girato su questa pista? No. Com'è a fede? Ci sta. No, ci sta. Quindi il primo giro di perlustrazione. Il secondo è buon, forse un po' più. Ancora perlustrazione. Sì, però un po' più veloce perché non so se arrivo. Let's go, io monto il gazebo. Com'è sta pista? Ci sta, dai, è un po' un canale. Però dai. Con le 9.15 hai già fatto una run, però non ne farei più di 4. Eh? Non ne farei più di 4. Andiamo? Dio, fede. Pugnetto. Ok. Ok. Vieni che la guardiamo Tutto ok? Grazie Tutto a posto Questa tutta la maschera appannata Prova è finita per questa mattina Ci sta dai È un po' C'è una linea sola praticamente Però ci sta la mogliamo No che schifo Sembra Sembra anche Un po' pangosa Ma c'è solo un punto C'è la qualifica alle 14.14 Hai tipo tre ore e mezza Se vuoi tornare in hotel a dormire Posso tornare in hotel a dormire Ci sta a dopo E ringraziamo anche Fabietto per il nuovo setup Poi vabbè noi non siamo tanto ordinati di nostro Però abbiamo un nuovo gazebo Let's go Tutututututu Ecco Tattica di gara Un quintal de grana È il grana con la pasta Buon appetit Buon appetit Ma non è Grazie Grazie Alessandro Allora Allora Dietro Eh? Gira Ok Un momento Grazie Guarda il cane 20 minuti per l'inizio ti sei ripigliato un po'? si dai ciccio bella fra bella fra sei ah sei ho capito ok mi toccherà rifarlo 3,2,1 first day over and out yes of course però abbiamo visto che i tempi degli elite ma mi sa che è storta ah vabbè dopo la raddrizziamo però abbiamo visto che i tempi degli elite e quelli degli allievi si erano abbastanza bassi quindi dobbiamo abbassarli ma la strategia qual'è? vabbè oggi era abbastanza easy si può spingere molto di più e domani speriamo di abbassare se il tempo fa sì 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 il tempo reggia bene quindi concludiamo per oggi questo Friday's vlog perché siamo già demoliti e andremo a mangiare e poi a dormire vediamo domani sì vediamo domani giorno 2 oggi è freddo speriamo che non venga da piovere adesso faremo qualche giro penso 2 perché è freddo e poi mi sa che dalle 11 mette pioggia poi smette e la gara ce l'ho dal luna tipo e niente facciamo qualche giro vediamo come la pista e poi gara con il gas primo giro guardiamo un po' si è cambiata da ieri si è più bagnata guardiamo un po' un po' che ho preso vieni sono fai questo vlog sono fai un po' di amici da casa 여러분들 giraffe vieni 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 il primo giro l'abbiamo fatto abbastanza nel chill ci siamo fermati tante volte per guardare le linee adesso penso che ne facciamo ancora uno o due ho sottotto la giacca perché è caldo però sta pioviginando adesso facciamo questo un po' più tirato e poi vediamo fermo lei ferma non fermatevi in mezzo alla pista non posso farvi fermare ho uscito fuori dalla pista ferma ferma prove finite adesso abbiamo due ore da aspettare vabbè ci siamo però mangiamo qualcosina al volo e com'è un po' bagnato dai no un tanto il terreno spacca a parte vabbè con la solita parte di fango e siamo al 23 giugno non mi ricordo 23 giugno con la maglia termica bene ma non benissimo bene e come ogni gara piove 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 non diciamo niente altro in bocca al lupo è la nuova hot seat che sono ricchi mentre per questo parla da sé ma l'abbiamo purdata a casa sì è andata bene 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 ma non è sketchy cioè dai sicuro è totalmente diverso dai ieri e niente andiamo a scaldarci ed asciugarci sì e tu prima eravamo un po' presi da dagli eventi visto che diluviava fango ovunque polvere no no stiamo aspettando le premiazioni che non si sa quando saranno quando le faranno noi ovviamente ci premiamo per ultimi questo weekend è stato bello ieri di più perché era bel tempo però vabbè oggi oggi è andata bene quindi e in prima posizione vince anche la mascherina premia Riccardo Riccardo Vender per questo Friday's Vlog è tutto ci vediamo nel prossimo che il prossimo sarà il prossimo Friday's Vlog sarà come preparare una bici da enduro prima della gara visto che è martedì andremo a pedalare e poi prepareremo la bici da enduro col grande capo Christian e abbiamo anche da fare una piccola modifica da bici ah cosa? no no stupidata però i cerchi sì i cerchi e il salsicciotto ci vediamo nel prossimo video ciao aspetta iscrivetevi mettete like e attivate la campanella ciao